Il derby d'Inghilterra, Manchester United-Liverpool, terminato 2-1 per i padroni di casa, è stato macchiato da un brutto gesto dell'attaccante dei Reds, Luis Alberto Suarez. L'attaccante uruguayano, infatti, dopo aver rimediato otto giornate di squalifica per aver rivolto insulti razzisti al capitano dello United, Patrick Evra, anziché fare pubblicamente ammenda del suo discutibile comportamento, nel nuovo artesissimo incontro con il francese, ha voluto rincarare la dose. Durante il tradizionale scambio di saluti, prima dell'inizio della sfida, si è rifiutato, tra lo stupore generale, di stringere la mano al difensore transalpino. Dopo che gli sono piovute addosso critiche feroci praticamente da tutto il mondo, l'attaccante del Liverpool ha cercato di pure rimedio alla pessima figura fatta all'Old Trafford, presentando scuse di circostanza il giorno dopo sul sito ufficiale della società inglese. Nonostante il tardivo ravvedimento del giocatore, i vettici del sindacato dei calciatori inglesi hanno comunque esortato i proprietari americani del Liverpool a prendere provvedimenti nei suoi confronti.